Monte Galdella viene trovato all'alba, riverso sull'acqua del fiume Bacchiglione. E' privo di sensi. A rinvenirlo in queste condizioni, in via Fontanelle, sarebbero stati gli amici con cui aveva passato la nottata. I medici del SUEM, a corsi sul posto, trovano il ragazzo in condizioni disperate. Resta da chiarire come sia caduto nel fiume. Ora è ricoverato all'ospedale San Bortolo, in prognosi riservata. Arzignano. Lui è un 31enne del Bangladesh. I carabinieri lo individuano mentre a Yumbara con atteggiamenti sospetti. Dopo aver osservato i suoi spostamenti, i militari lo fermano per un controllo. Lo perquisiscono e trovano nascoste sotto la sua biancheria otto dosi di eroina pronte per essere vendute. Lo straniero, già noto le forze dell'ordine, è stato arrestato. L'Onigo. Tutto parte da una telefonata al 112. Sono due dipendenti di una ditta impegnata nella manutenzione delle aree verdi. Hanno trovato, su un albero del giardino pubblico di via Pietro della Torre, una borsa in plastica con dieci involucri in cellofan, adeguatamente confezionati, con quasi un chilo di hashish. Per la precisione, 975 grammi che sono stati immediatamente sequestrati dai carabinieri della stazione di Barbarano e Mossano. Le indagini adesso dovranno chiarire chi ha nascosto quella droga e chi possano essere i potenziali destinatari.